Tutta la piattaforma ambulatoriale è pensata in modo tale che ci sia una massimizzazione dell'offerta e per quanto riguarda la presa in carico dei pazienti a domicilio abbiamo iniziato con i pazienti con scompresso cardiaco ma le potenzialità sono enormi, infinite, posso aggiungere, infatti stiamo sperimentando anche la presa in carico a domicilio dei pazienti con la SLA. L'inaugurazione ufficiale di un presidio sanitario che mette al centro i cittadini più fragili e che oggi festeggia anche i professionisti della sanità e i loro sforzi in questi anni così critici per la sanità del nuorese tra carenze di organico e di fondi. La Casa di Comunità di Nuoro ha visto il taglio del nastro questa mattina alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, dei rappresentanti della politica regionale e della Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Tanto è stata un'opera di restauro di una bellezza nuorese che andava ovviamente valorizzata. Poi è il segno di un interesse di questa amministrazione regionale ma anche dell'ASL a perseguire quanto dettato dal DM77 ovvero arricchire i territori con le case della salute che si chiamano oggi case comunità e con gli ospedali comunitani. È un progetto che Dottor Mulas aveva impostato già dal 2008 quindi vederlo concluso oggi con questa inaugurazione mi rende diciamo felice e anche perché sono riuscita dal 2010 come direttore di distretto a seguire tutti i lavori. Dopo l'inaugurazione la Ministra Locatelli ha visitato i locali della Casa di Comunità dalla telemedicina al consultorio familiare e esprime un pensiero di vicinanza alla mamma di Sergio Nardelli. Il disabile è morto tragicamente ieri nel rogo della sua abitazione a Nuoro. In questo momento io ci tengo a mandare un messaggio davvero di vicinanza e di saluto e di affetto alla mamma di Sergio perché penso che questa sia una tragedia, un dolore così grande che necessita veramente di una vicinanza del mondo delle istituzioni, della comunità di Nuoro che si stringerà sicuramente intorno a questa mamma e di tutti noi in attesa poi che si faccia chiarezza sull'evento stesso.